Questi ragazzi sono diventati milionari regalando acqua alle persone. Bene, questa è la prova che si può vendere davvero qualsiasi cosa online e adesso ti spiego come. Questi ragazzi hanno creato un brand che regala letteralmente acqua alle persone in strada. Ma com'è che guadagnano? Semplicemente sulle bottiglie d'acqua ci sono stampate delle pubblicità di altre aziende, come potrebbe essere quella della Nike, ad esempio. Bene, questi brand pagano questi ragazzi per stampare sulle loro bottiglie determinati slogan o determinate cose riferite al loro brand, quindi facendogli pubblicità. Di conseguenza questi ragazzi possono andare in profitto e regalare la loro acqua alle persone in mezzo alla strada. E com'è che diventano famosi? Semplicemente sono diventati famosi pubblicando dei video su TikTok, proprio come facciamo io e i miei studenti con i nostri stori in dropshipping. Ovviamente bisogna sapere come fare le cose, come scegliere un prodotto oppure come vendere un prodotto, quindi se non sai ancora come farlo, ti lascio direttamente il mio profilo, puoi iscrivermi sull'altro social e ti spiegherò come fare. Ad ogni modo, ecco come...